Più che big snow con la neve sta arrivando la bufera che da oggi, 4 dicembre, si abbatterà sull'Inter e sugli interisti, alla faccia delle sciocchezze sulla marotta league e su tutte le inesatezze che sono state dette. Perché De Laurentiis, che io ho sempre stimato, questa volta fa qualcosa proprio fuori dalla tazza, dice che ha perso per colpa dell'arbitro, ma Zavi non parla o parlotta e tutti gli vanno dietro. Nel tunnel di Spoletoio succede di tutto, telefonate agli arbitri, a Rocchi, alla federazione e poi i moviolisti che si sono completamente divisi, nel senso che da un lato Cesari parla di fallo di Lautaro e di fallo di Acerbi e in altre trasmissioni si parla invece di altro, ma soprattutto sul rigore di Osime anche. Il fallo non è e non c'è, non è sufficientemente fallo, non è che ogni volta che ci si tocca è fallo. Questa è la situazione a oggi dove è vero che comunque all'odelà di queste cose c'è anche un richiamo ad una grandissima Inter che ha fatto un sol boccone del Napoli e quindi è anche vero che i giornali riconoscono una manifesta subitorietà, c'è proprio un discorso anche abissale nel discorso dei confronti diretti rispetto all'anno scorso, è un Inter che cresce, che dopo la Champions non inciampa, che ha corretto tutti gli errori di due anni fa e dell'anno scorso e fino ad oggi è quasi quasi perfetta con la miglior difesa, il miglior attacco, il cannoniere eccetera eccetera. Però nonostante questo, oggi invece che fare gli applausi come di solito vengono fatti o venivano fatti l'anno scorso a Napoli capolista, bisogna andare a vedere degli episodi che coinvolgono l'Inter, quando proprio l'Inter nei due passi falsi diciamo con Bologna e Sassuolo ha tantissimo da recriminare, non tanto, tantissimo da recriminare e anche in partite vinte l'Inter ha tantissimo da recriminare. Se c'è un campionato dove l'Inter ha da recriminare e un campionato con gli arbitri dove l'Inter avanza e comunque ha un percorso lineare, è questo, è questo, ok? E allora invece di parlare di tante cose positive, ma noi lo faremo lo stesso poi oggi anche in live, bisogna soffermarsi su degli episodi. Tra l'altro non dubbi di più perché se settimana scorsa poi con la Juve si era parlato del non fallo di Darmian, se per anni ho sentito dire che quello di Girussu Sanchez non era fallo, allora se qualcuno aveva detto che non si fischiavano i rigorini, allora io voglio capire perché ogni settimana in questo paese si debba cambiare idea sempre su episodi identici o simili. C'è una linea che parte, ma questo non parlo dei tifosi e degli addetti ai lavori, parlo soprattutto di chi gestisce il calcio e anche degli arbitri, che sono loro stessi a dire se protesti per l'ammunizione, se chiedi l'ammunizione ammonisco te, se c'è un rigorino non te lo do, sarà sempre più presente l'azione del VAR e anche gli arbitri dovranno abituarsi, dice Rocchi, a un VAR che è più potente di loro. Quindi gli arbitri si inchinino all'intelligenza artificiale, alla tecnologia, ai droni, va bene, però accettino quello che le telecamere a volte fanno vedere meglio. E io la penso così, ma dal 2019 da sempre, ok? Però qui stiamo sfiorando ridicolo. Lautaro Martinez e Lobotka hanno un contrasto di gioco. Tra l'altro, cioè, mi sembra veramente chiaro dalle immagini, forse non le avete viste tutte, che Lautaro è lui che ha la palla tra i piedi, è assolutamente in possesso palla, ok? Lobotka, no, Lobotka, Lobotka, le immagini ce le avete, Lobotka non entra mai in possesso della palla, la palla ce l'ha Lautaro, che poi riesce a darla in avanti, ma Lobotka non entra mai in possesso, ok? Poi si mette con il corpo, si gira, mentre Lautaro è in possesso perché la palla c'è da lui, e gli fa una sorta, non di ostruzione, io la chiamo ostruzione, in realtà è un qualcosa di gioco, ok? Dopodiché Lautaro che cosa deve fare? Cosa deve fare? Davanti, dove deve cadere Lautaro? Mi spiegate Lautaro dove deve cadere? Uno ti si butta davanti, dove cadi? Gli vai addosso e poi quando cadi, cerchi di abbracciarlo, ma non per fargli fallo. Dove cadi che ti spiaccichi? Ce l'hai davanti, cadi sul giocatore che hai davanti. A me sembra veramente evidente, cioè, al massimo possiamo dire scontro di gioco, comunque l'arbitro è a un metro, l'arbitro è a mezzo metro, ok? L'avranno ricontrollato al VAR? Sì! A parte che lo sapremo poi già domani dai dialoghi, tra una settimana, non so quando vanno, perché poi vanno a controllare, avete sentito quando ci sono i dialoghi, no? Vanno a vedere tutta l'azione dietro, quindi evidentemente l'avranno controllata, ma l'arbitro è lì facendo di proseguire, è davanti, vede l'insensità, vede i giocatori che cadono e vedrà anche che Lautaro aveva la palla lui. Cosa deve fare? Lo botta, non entra mai in possesso della palla. Poi, se sbaglio ragazzi, ok, se sbaglio, non lo so, io vedo questo. però ho premesso che l'Inter quest'anno, nelle poche partite che ha fatto male con Bologna e Sassuola è stata fortemente penalizzata, perché poi il rigore che vi è andato al Bologna, mi pare, sul vantaggio dell'Inter è scandaloso, quella cintura di Lautaro, vabbè, comunque, una cintura dove il calciatore invece di cadere indietro, cade in avanti. Io ti cinturo così, no? Vabbè. Sul rigore, sul rigore non lo so, siamo stati una vita a dire che non fischiamo i rigorini e qui c'è un contatto, si parla di io ho giocato a calcio, Mazzari, mi pare il tallone da kille, il tallone da killer, non lo so. C'è un contatto e Osimè salta per aria. Il contatto c'è, è penalizzante, beh, il contatto evidentemente c'è, è sufficiente per? No, non è sufficiente per, perché poi non intervengono, eccetera, eccetera, e tanti e tanti opinionisti arbitri o addetti ai lavori dicono che questo non è sufficiente, c'è per esempio Cesare dice che è rigore, Marelli dice che non è rigore su da zone sky che non è rigore. Tutta questa situazione che si trasforma anche sui giornali su qualcosa di, che è diventato, qualcosa che scandalizza, no? In realtà nessuno si è accorto di due cose, forse gli interisti come me non si sono accorti che il primo tempo Napoli comunque ha giocato, la traversa la prendono e Sommer fa un miracolo incredibile e Napoli gioca una discreta partita e l'altra cosa invece di cui non si è accorto nessuno è che noi perdiamo De Vrij in una difesa dove in teoria i titolari, cioè lui è una riserva De Vrij a oggi, però l'Inter manca già di due titolari quindi noi andiamo subito, subito in forte difficoltà e nonostante quello, nonostante l'opzione Carlos Augusto braccetto di sinistra l'Inter va avanti a giocare e distrugge smacciulla il Napoli facendo l'Inter che proprio perché perde uno come De Vrij si chiude sempre molto meglio il portiere para tutto perché Sommer ho detto in ginocchio aspettatelo la parola che mi ha detto è aspettatelo aspettiamolo e oggi Sommer mi fa impazzire è un portiere devastante sarà anche 1-83 ma è un portiere all'epoca lo so alla Peruzzi sai quelli un po' magari più non tra cagnotti ma non giganteschi ma è un portiere che fa degli interventi spettacolari sempre concentrato 90 minuti quindi il Napoli ha giocato questo gli va dato atto dopodiché l'Inter è stata veramente 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 superiore è a Torino no? come dice ecco mi tocca citare Saki che dice insomma ovviamente i punti vabbè ma su questo faremo un video a parte sul discorso io qua volevo veramente ecco volevo sottolineare così che mi sembra veramente eccessivo dire Inter aiutata campionato falsato bla 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 ok intanto Milito dice Sommer meglio di Onana ok ci sentiamo poi per le pagelle per tutti i discorsi che faremo anche anche insieme oggi in live grazie a tutti